La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni continua a occupare le cronache mediatiche del momento, soprattutto dopo che l'imprenditrice ha confermato a che tempo che fa le voci che li raccontavano di la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Nell'ultimo numero in edicola il settimanale oggi è tornato sulla coppia aggiungendo dettagli sulla vita da separati dei due che in queste settimane vivono in case diverse. Chiara nel superattico di siti. Nell'ultimo numero in edicola il settimanale oggi è tornato sulla coppia aggiungendo dettagli sulla vita da separati dei due che in queste settimane vivono in case diverse. Chiara nel superattico di siti. Nell'ultimo numero. Machiele Onora Sesana. 33enne, milanese, l'assistente di Fedez è descritta come un vero e proprio angelo custode del rapper soprattutto in questo momento di lontanando. Machiele Onora Sesana. 33enne, milanese, l'assistente di Fedez è descritta riservatissima e per nulla incline a mostrarsi. Si vocifera abbia un compagno e le Onora un grande ascendente su Fedez. Si legge su oggi, per il cantante è una figura di riferimento almeno quanto Fabio D'Amato lo è per Chiara Ferragni. E forse il problema della coppia è anche questo conclude l'articolo dedicato alle foto del trasloco di Fedez. Il loro è un matrimonio troppo affollato calcolata anche la presenza assidua dei e forse il problema della coppia è anche questo concorso. Eleonora Sesana è laureata in scienze del turismo all'Università Bicocca di Milano, poi si è specializzata in media digitali con un master conseguito presso la 24 ore bis dopo gli studi e prima dell'impegno con Fedez. Ha svolto l'attività di assistente personale presso la Natasha Slater Studio, nota agenzia di pubbliche relazioni. Poi ha ricoperto il dopo gli studi e prima dell'impegno con Fedez. Vive ovviamente a Milano e ha un grande passione per